In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Amici telespettatori, buonasera e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Happy Hour. Questa sera parleremo di vendita e acquisto di oggetti e arredi di seconda mano. Parleremo di mano in mano e lo facciamo con il mio ospite qui studio al quale do il benvenuto. Ritroviamo Simone Papini, venditore della cooperativa di mano in mano. Benvenuto e ben ritrovato Simone. Grazie. Allora Simone, ci ritroviamo questa sera per approfondire uno dei settori della cooperativa di mano in mano. Parliamo del mercatino. Cerchiamo di far capire di che cosa si tratta e soprattutto dove troviamo questo mercatino. Allora, il mercatino come dicevi è una delle divisioni della cooperativa di mano in mano. È essenzialmente uno spazio fisico e uno spazio virtuale dove noi proponiamo arredi e complementi d'arredo. Tutto quello che può servire ad arredare un ambiente rigorosamente usato, quindi di seconda mano, in buone condizioni e soprattutto a dei prezzi assolutamente accessibili. Alcuni potremmo dire in ottime condizioni. Alcuni in ottime condizioni, senza dubbio, però bisogna essere moderati. Per cui assolutamente funzionali e che permettono un luogo ideale, insomma, per poter arredare, che so, una seconda casa, piuttosto che una casa di villeggiatura, una casa per affitti. Ma io direi in più un luogo ideale per poter arredare anche la propria abitazione in maniera consapevole. Consapevole cioè rispettosa dell'oggetto che è usato e quindi, come dire, al quale si riesce a dare una nuova vita. E consapevoli e rispettosi dell'ambiente. Quindi un luogo dove il favore si può acquistare favorendo l'economia e favorendo anche l'ambiente. Certo. Simone, quindi hai detto una cosa molto molto importante che è il rispetto per l'ambiente. Oggigiorno, diciamo, si parla sempre di questo. Ma ci vuoi spiegare un po' in che modo rispettate l'ambiente? Allora, questa è una tematica fondamentale per noi. Ma sin dall'origine dell'azienda, e quindi parliamo del 1999, anno di fondazione, un gruppo di soci decide di attuare un'attività di sgombero, quindi di svuotamento di appartamenti, solai, cantine, eccetera. E di conseguenza poi rimettere sul mercato gli oggetti sgomberati. E questo nell'ottica di recuperare vita all'oggetto, quindi allungargiela, fare in modo che quell'arredo, quell'oggetto che magari per me non ha più senso, non ha più utilità... Ma per qualcun altro potrebbe averlo? Assolutamente sì, e non è obbligatorio disfarsene. Questa tendenza noi l'abbiamo da sempre, anche in tempi in cui il cosiddetto second-end non era di moda e le tematiche legate alla tutela dell'ambiente non erano così discusse come oggi, sfortunatamente. Tant'è che oggi l'argomento è diventato cogente, detonante, insomma molto importante e pericoloso. E in questo modo riusciamo a andare contro una tendenza di consumismo sfrenato e a dare un nostro contributo veramente piccolo alla montagna di rifiuti che tutti i giorni si creano sul nostro pianeta. Certo. Simone, che cosa succede a quegli oggetti che, potremmo dire, non riescono ad essere salvati? Allora, tendenzialmente noi riusciamo a recuperare dalla merce che vi arriva tramite lo sgombero circa l'80%, quindi è una percentuale alta direi, molto soddisfacente. Un 20% è quello che in qualche modo viene scartato? Il 20% è qualcosa che viene scartato, che non è adatto in nessun modo a essere rimesso nel circuito commerciale e quindi lo si smaltisce, ma non lo si smaltisce prendendo l'oggetto, buttandolo sul cassone e mandandolo in discarica. Ecco, cosa succede? Succede che viene sezionato, viene aperto nelle sue parti che possono essere riciclate, quindi quel 20% diminuisce ancora un po'. E poi, una cosa che ci tengo molto a sottolineare, di mano in mano, sin dall'inizio, non si è mai appoggiata a piattaforme ecologiche comunali, ma si è sempre appoggiata a piattaforme di... Ecco, perché ci tieni a precisare questa cosa? Perché le piattaforme che usiamo noi sono a pagamento e questo ci sembra... La piattaforma comunale è ad appannaggio del cittadino. Quindi è uno sforzo in più che farà di mano in mano. Esattamente, è uno sforzo di essere ossicchiosi rispetto alle regole e in questo modo possiamo riuscire, ci impegniamo tanto a fare un buon lavoro e fatto bene. Ovviamente anche in quel caso il trattamento che si fa di tutto quello che arriva è un trattamento, diciamo, paritario, diciamo così. Trattiamo allo stesso modo il cucchiaino da caffè piuttosto che la importante lampada di design degli anni 70. Perché questo modo di fare è quello che ci permette di essere aperti ad un pubblico attento anche a queste esigenze che sono nostre, che sono sue, ma in qualche modo sono comunitarie. E nello smaltimento di quel 20% di cui mi chiedevi, anche lì c'è un lavoro di equip importante, c'è un settore che se ne occupa. Perché le cose non possono essere lasciate al caso e devono essere fatte, come dicevo prima, nel migliore dei modi e con il miglior risultato possibile. E quindi mi sembra di capire da quello che dici che la vostra è una perfetta organizzazione, una catena di montaggio potremmo dire. Come vengono suddivisi i compiti dei vostri dipendenti? Allora sì, è una catena di montaggio e non potrebbe essere diversamente visto la complessità della macchina in generale. Ci sono dei compiti ben precisi, ci sono dei settori e delle equip che si occupano specificatamente di quell'argomento in maniera tale da poter oliare il meccanismo e far funzionare tutta la macchina. Parliamo per esempio dei mercatini. I mercatini vengono approvvigionati dall'attività di sgombero. Gli sgomberatori escono in un appartamento e lo svuotano. Ovviamente lo svuotano attuando tutte quelle attenzioni necessarie, imballando la merce più fragile, caricando il camion in maniera oculata finché nel tragitto la merce non si rovini o addirittura rischi di rompersi. Dopodiché arriva da noi e viene sezionata, selezionata per grandi blocchi, a volte pulita, a volte aggiustata, laddove è necessario un intervento per ripristinarne la funzionalità. Per dargli in qualche modo una nuova vita? Assolutamente sì, una vita che si spera ancora più lunga della precedente. A quel punto la merce viene apprezzata, quindi viene valutata a livello commerciale. A quel punto un'altra equip la espone, quindi organizza gli ambienti di vendita. Subentrano poi i venditori che possono dare consigli, indirizzare la clientela su cosa acquistare o meno e se la clientela non è in grado di portare via l'oggetto subito, c'è un altro settore che si potrà occupare delle spedizioni, dell'imballaggio e delle consegne. Insomma la macchina è molto complessa, deve essere oliata tutti i giorni, però la soddisfazione di un lavoro ben fatto è estremamente appagante per noi. Esatto, è quello che poi vi dà fiducia. In quanti siete? Perché è una catena che mi sembra lunghissima. Sì, siamo molti, sia soci che collaboratori. In più c'è un'altra questione importante di cui voglio parlarti. L'impresa di mano in mano nasce come cooperativa di lavoro con un'attenzione particolare al sociale, pur non essendo obbligatorio da statuto. In questi anni abbiamo tessuto tantissimi rapporti con il territorio, con i servizi sociali, con realtà tipo Caritas, le carceri e ogni anno riusciamo ad accogliere persone in svantaggio che prestano la loro opera rispetto alle loro caratteristiche da noi in uno di questi settori e quindi ci aiutano molto e ai quali noi cerchiamo di dare una nuova opportunità di lavoro e perché no di vita. Questa cosa è sempre inerente alla consapevolezza dell'oggetto, della persona e dell'ambiente. Complessivamente siamo quasi 130. Tantissimi siete, un'azienda come diciamo prima molto grande potremmo dire che fa molta attenzione all'ambiente e in questo caso anche al sociale. Certo, assolutamente. Fate veramente tanto. Facciamo tanto con fatica ma siamo contenti di farlo. Esatto, bisogna fare il lavoro con passione, fare le cose che piace fare perché così si riesce comunque ad arrivare alla fine con un risultato sicuramente maggiore. Certamente. Simone, dove vi trovate e soprattutto che cosa si, in pochissime parole perché comunque abbiamo ancora poco più di un minutino, che cosa si può trovare nello specifico all'interno di questi mercatini? Si trova di tutto. Gli spazi fisici sono nel negozio, nello store grande di Cambiago, in via Castellazzo all'Otto e nel negozio di Milano, in Valle Spinassi 99. Circa 700 metri quadri di esposizione dove si trova veramente di tutto. Dal divano in stile antico alla lampada in bilionario d'arriato, sale, camere da letto, cucine, elettrodomestici, forni, frigoriferi, utensili, arredo bagno. Insomma potrebbe andare avanti per ore. Dal piccolo oggetto all'oggetto comunque di grande valore. Dal piccolo oggetto all'arredamento completo di una casa. Assolutamente. Allora ricordiamo anche il sito di Di Mano in Mano che è dimanoinmano.it in questo caso ricordiamo anche il mercatiniusato.org e se volete avere qualsiasi tipo di informazione potete anche contattare il numero 0295 34 9193. Io Simone ti ringrazio per essere stato qui con noi, ti aspetto prossimamente per un'altra puntata perché abbiamo ancora tanto da raccontare. Saluto anche voi amici da casa e vi auguro una piacevole serata. in collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda.